Per me la sostenibilità è non vedere il veterinario in stalla, quindi le mucche sono sane, quindi non ci sono dei costi aggiuntivi per la mia produzione. Sostenibilità è essere sano io di mente per poter produrre al meglio i miei prodotti con serenità. Sostenibilità è quella di arrivare alla fine dell'anno e non avere più fatture da pagare. Sostenibilità è la natura che si acclemente con l'acqua e col sole e con tutto. Sostenibilità è una grande parola ma con vari significati.